Azioni positive finalizzate al contrasto delle discriminazioni e all'affermazione del principio di pari opportunità e quanto previsto dall'avviso pubblico del Comune di Torre del Greco. Negli studi di TV City la consigliera con delega le pari opportunità, Iolanda Mennella, illustra le finalità e le attività previste dal bando. Questo avviso ha come oggetto il finanziamento di un progetto atto proprio a promuovere quelle che sono le affermazioni del principio delle pari opportunità e quindi del contrasto delle discriminazioni. In particolar modo sono delle azioni, delle attività informative dove appunto vengono articolati in un piano comunicativo attraverso determinati obiettivi specifici che si devono raggiungere, che sono tanti, poi le modalità e anche le finalità che sono poi destinati ai soggetti a quale si rivolge questo progetto. I destinatari sono tutti coloro che appartengono al terzo settore, quindi le associazioni, le cooperative, gli organismi di cooperazione, le fondazioni e anche privato senza scopo lucrativo. Questi progetti devono tenere conto delle azioni positive di queste attività, soprattutto per mettere in risalto determinati obiettivi specifici che vorrei comunque considerare. Tra questi obiettivi specifici che poi attraverso il sostegno di queste azioni possiamo verificare quello per la promozione appunto alle pari opportunità come principi fondamentali, quindi la sensibilizzazione e la promozione di alcune tematiche che sono basate proprio sulla violenza, diffondere anche tra i giovani il senso del valore civico della diversità, inoltre dare una cultura etica, quindi diffondere quei valori positivi, combattere tutti quelli che sono i pregiudizi, le cattive notizie, le cattive informazioni che spesso si vanno sviluppando all'interno dei gruppi di cittadini italiani, ma soprattutto dei gruppi di cittadini stranieri, quindi contribuire attraverso lo strumento del linguaggio e quindi il discorso interlocutore, soprattutto la possibilità di migliorare le relazioni interpersonali tra i cittadini italiani e stranieri e quindi portare uno sviluppo del territorio sia a livello sociale che culturale. Non è mancato un messaggio in occasione della giornata internazionale contro ogni forma di violenza alle donne del 25 novembre. Noi spesso ricordiamo la giornata contro la violenza sulle donne sempre il 25 novembre, in realtà lo dovremo ricordare un po' tutti i giorni, lo dovremo ricordare lì dove lavoriamo, dobbiamo ricordarlo sempre all'interno della famiglia, come dicevo prima, all'interno di una coppia, all'interno anche delle relazioni tra amici, tra gli stessi compagni di gioco, dobbiamo rispettare il prossimo e rispettare il prossimo significa appunto accettare quello che è la diversità, ecco perché eliminare quelle barriere che sono ancora presenti nella cultura e nella società di oggi.